buongiorno a tutti oggi è giovedì 28 maggio e parliamo di analisi ciclica evoluta su dax come avete visto il concetto di tendenza è importantissimo per quanto riguarda l'analisi ciclica evoluta e non esiste nella ciclica perché concerne i volumi altro argomento estremamente importante da valutare allora che cosa è successo cosa abbiamo avuto qui esattamente quello che aspettavo da un'analisi fa almeno ovvero un t meno 4 ribassista che mi permettesse di avere anzi ben più di un t meno 4 ribassista che mi permettesse di andare in chiusura di t meno 1 fatto questo ci stiamo svegliando con una germania che sta sparando su con dei future a più 116 punti prima un pochino più forte effettivamente però vedete che sta lasciando poca immaginazione a quello che potrebbe succedere ancora di nuovo oggi ovvero le strade erano due però adesso può essere difficilmente una e più semplicemente un'altra ovvero se ci sveglieremo in apertura 11.768 avremo ben più che la possibilità che si vada a chiudere l'inverso con un altro massimo massimo superiore decisamente appunto a quello fatto qua attenzione peraltro quello era un massimo che ho provato a scioltare ieri perché è arrivato ad un livello di fibonacci del 61 8 per cento oltretutto più importante ancora c'era un livello sq 9 fondamentale per cui per quello che tutta la giornata ho provato a scioltarlo perché mi aspettavo appunto poi un movimento di questo tipo e però non sarei sicuramente rimasto in overnight quindi che cosa mi aspetto per oggi mi aspetto un aggiornamento dei massimi mi aspetto che si prosegua ancora salire dopo la potenziale chiusura del primo t-1 e che si vada in in direzione cambio soltanto il grafico chissà se ve lo farò vedere e che si vada per effetto appunto dell'inverso in direzione 12.083 questo può avvenire entro un giorno cioè oggi se non ci arriva oggi difficilmente ci arriverà domani perché comunque dovrà esserci un t-3 ribassista però quella è la direzione l'importante è sapere cosa evitare e dove andare verso dove andare per cui la direzione è all'insù per far chiudere il t- il t-inverso il settimanale inverso permettere ancora al nostro t settimanale di andare avanti e capire se qui è partito il secondo t perché se torniamo se potessimo tornare cosa che non possiamo a all'altra scheda avremmo che il precedente t si è chiuso a 6 t-3 streaming city mentre invece qui abbiamo cinque giornalieri buone notizie per chi appunto ha continuato a seguire l'analisi ovvero a mantenersi più long che altro direi che comunque questo è tutto per la giornata vi auguro che sia splendida come ho deciso che voglio la mia decidete sempre che cosa volete per voi stessi per la vostra felicità volete fare carta da parati e cercare sempre di rimediare da qualcuno la dritta di mercato per guadagnare dei soldi oppure desiderate arrivare a fare le analisi voi perché nel secondo caso contattatemi posso fornirevi del materiale gratuito per iniziare almeno con la ciclica giusto per avere un'idea di che cosa sto dicendo anche perché queste analisi sono rivolte proprio a chi o ha voglia di imparare che cos'è la ciclica oppure a chi è esperto di ciclica viceversa chi non la capisce rischia soltanto di malinterpretare le cose non capire che cosa stiamo dicendo se l'analisi vi è piaciuta solita pacca sulla spalla se non vi è piaciuta benissimo così buona giornata a tutti